Sto riprendendo gli effetti di un fortissimo vento di nord, nord e nord est, dalla tramontana grecale, in pratica, la Bora, come si chiama a Trieste. È un vento freddo, teso e questa è l'azione che causa il mare, arriva, queste onde biancastre che si rinfrangono sulla scogliera. Passiamo a Antignano, che è un rione di Livorno, nella parte a mare, in pratica nella parte sud di Livorno, vicino al ben noto santuario di Montenero, che è la Madonna di Montenero e la patrona della Toscana intera. Ora faccio girare un pochettino per il vento che sta portando via. La bellezza di questa scogliera, questa è una rotondina che si dà sopra agli scogli, giro piano piano, sullo sfondo ci sono tutta una serie di navi, ora sta girando come nelle regole, questo vento verso est, poi piano piano a sud e poi va nel famoso sud-oveste che è chiamato libeccio. Si possono vedere sullo sfondo che le navi hanno già la prua verso il vento, verso il liveccio, ecco le navi, prua a sud-oveste. Questo è il porticciolo di Antignano, siamo arrivati a due minuti, interrompo, stop.